primo video dell'anno e prima pescata che vi faccio vedere è una pescata in realtà fatta questa estate quando insieme al presidente della lega navale di porto recanati massimo siamo andati con la sua barca alla ricerca del tonno rosso questi grandi predatori che si possono pescare solamente in un breve periodo estivo in cui è aperta anche una quota destinata alla pesca sportiva l'abbiamo insidiato con la tecnica del drifting una tecnica secondo cui la barca sta in corrente alla deriva e c'è una pasturazione continua di sarde buona visione si batte 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 Grazie a tutti. Arrivati. Quanto è? 70 metri qui? Profondità? Bene. Pure la canna da spinning. Intanto vi faccio un lancio. Inaugurato. Anche poche carne. Quindi com'è la montatura? Questa è il filo madre. Ci metti un piombo da? 130, 150 euro. Poi c'hai uno 0,80 no? Nylon. Vedete come si innescono. Carino. Tre sarde. Questa è la sardella che ha proprio due cilindri. Non vedete dove? Un po'. Che movimento che c'ha questa pure. Questo è il mio preferito. È un po' 78 secondi. questa robetta stanca è una colpa a me, il dono ha perso pure l'uomo spettacolare, purtroppo riprendere in diretta è dura, la partenza che partezza che emozione eh Maxi sicuro? sono sempre di lato mamma il guida filo lo fai qui vai su e lo pompi tondo in canna mamma mia è bello non so minimamente ora l'hai tirato fuori c'era piccolo tipo adesso tira lui lascio farlo quando tira lui tanto teni la fai a tirarlo è adesso viene è un'emozione immensa è il re del mare questo adesso punta sotto è un lavoro è adesso però comando io no col cazzo non è armi pari comunque lui di sicuro ha già più forza di me adesso lo ha guadagnato un po' adesso viene su vedo la canna un po' più dritta adesso ci lo combattiamo tutti e tre vai vai adesso tocca al presidente dopo c'è da lavare il fiumbetto ma capirai è legato con venti eh Massimo è esperto di tonni in canna non è come me un pivellino pesca del blu fintuna non è 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 Grazie a tutti. 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 Idrodinamismo al massimo, c'è proprio il buchetto per la prima dorsale. Ma anche il laterale c'ha l'incavo per la laterale. Vabbè, re del mare, lufintuna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.